Musica Abbiamo preso un giallo così Pensa a te che giallo che abbiamo preso Pensa a te che giallo che abbiamo preso Giallo stupidissimo Che è che è andato giù Chiellini? Chiellini e Ronaldo Uno contro sette Uno contro sette Var, attenzione, forse rigore Forse rigore Beh, quello su Chiellini Sembra più su Chiellini che su Ronaldo Su Chiellini e rigore ragazzi Su Chiellini e rigore Su Chiellini e rigore Su Chiellini e rigore Eh sì eh Fisca Calvarese Va Ronaldo Para Danovic E poi Ronaldo Uno a zero Juve Cristiano Ronaldo Aveva calciato forte sulla destra del portiere Bravo Andanovic Ad aspettare l'ultimo momento E partire col tempo giusto Così Vai così Cazzo L'ho vista malissimo anch'io ragazzi L'ho vista malissimo anch'io cazzo Ma non è mai rigore questo Ah cazzo Delete dietro Eh sai che lo tocca Eh lo tocca ragazzi Gli leva la scarpa Gli leva la scarpa Non l'avevo mai visto Gli leva la scarpa È rigore È rigore È rigore Sì sì Già pentito di averci dato il rigore Eh no no è rigore Non l'avevo mica visto in diretta Ma gli toglie proprio la scarpa Giusto Eh ci sta Due rigori che ci stanno tutti e due Molto al limite Al limite entrambi Ma secondo me giusti entrambi Va Lukaku Uno a uno Sempre perfetto Dagli undici metri Romeno Lukaku Dodici su dodici Seria Si calcia benissimo i rigori Non sbaglia mai Perché comunque Riesce non solo a calciarli Forti angolari Gli ha fatto la multa Kimi Gli ha fatto la multa C'è un'area eh C'è un'area eh Siamo in'area eh Siamo in'area E c'è il gol di Quadrado Al novantesimo Al quarantacinquesimo E siamo in'area Andiamo avanti noi Ce lo meritiamo Dopo questo bel primo tempo Siamo in'area E troviamo il tiro da fuori Juan Quadrado Primo gol stagionale Gran gol di Quadrado Sì 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 E si gode Sì Yes Yes Avanti noi 2-1 Juve Primo tempo bianco nero Vai Bravo Bentancur Queste sono le cose in cui Bravo Bentancur Eh vabbè però Fischia dopo Io però Kuluzeski lo toglierei Perché ha munito ragazzi Ho rischio di continuare A far giocare a Kuluzeski E Ramsey per Eriksson Sì ci sta Perché c'è un cartellino rosso in mano Per chi? Per chi? Per chi? Com'è? Come è spulso Bentancur? Come è spulso Bentancur? Come è spulso Bentancur? Per cosa? Come è spulso Bentancur? Cioè non stava neanche fischiando il fallo? Non so che ne pensi tu Ma stai scherzando? Ragazzi non so fermiamoci solo sul giallo Però adesso Sul giallo rosso Guardia la partita Cioè ha fischiato Ok fine Fischiato Siamo un ora in meno Abbiamo mezz'ora Siamo in vantaggio Abbiamo ancora tutte le possibilità Di vincere questa partita Basta solo pensare agli arbitri Autogol di Chiellini Fallo su Chiellini però Ok Infatti stavo dicendo Mi sembra fallo su Chiellini Uff Ma si era visto eh Infatti Però si era visto clamorosamente Ma sai che forse è gol davvero? Sai che gol? Sai che gol? È gol Eh sì Dal replay è gol Dal replay è gol Sì sì Dal replay è gol In diretta mi era sembrato fallissimo No dal replay è gol Eh Eh rigore È rigore È rigore È rigore Sì 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 Bravo Juan Bravo Juan Bravo Juan Ma che partita è? Ma che partita è? Ho comportato un po' Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì VINTO VINTO